Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo video annuncio in cui voglio darvi due informazioni abbastanza importanti, una delle quali riguarderà il futuro di Destiny 2, per la precisione con il primo DLC La Maledizione di Osiride. Prima di arrivare a questo però, ieri YouTube ha deciso di fare i capricci e nonostante il video glielo abbia caricato comunque, le subbox non hanno funzionato a dovere e molti di voi probabilmente neanche hanno ricevuto la notifica del video in questione, quindi se ve lo foste perso una nuova recensione esotica la trovate comunque sul canale. Passando alla notizia davvero importante, come ben saprete a partire da questa sera alle ore 20 inizieranno le dirette di Bungie dedicate al nuovo DLC, una oggi, una al 21 e una al 29 e dove poterla seguire? Molto semplicemente sul mio canale di Twitch, il link come al solito in descrizione e sarò in diretta a commentarla in italiano, come al solito poi seguirà un video riassuntivo sul canale e vi anticipo già che esattamente alle 9 in punto, segnatevi quest'orario sul calendario o più che altro sulla sveglia, troverete delle sorprese sul canale, sorprese molto interessanti di cui al momento non posso parlarvi, quindi fondamentalmente questo video soltanto per invitarvi a seguire mia compagnia alla diretta di Bungie questa sera alle ore 20, io mi connetterò circa un 10 minuti prima e la seguirò per tutta la sua durata, quindi vi aspetto tutti puntuali, detto questo io vi saluto e ci vediamo direttamente questa sera, ciao a tutti ragazzi!